Guardi, lo ha detto Matteo Salvini, l'unica alleanza che a noi in questo momento interessa deve essere fondata su un progetto e sui contenuti. E soprattutto noi siamo interessati ad allearci con quel 50% di cittadini che non è andato a votare alle ultime elezioni amministrative e noi vogliamo riconquistare quel pezzo di elettorato per tornare anche a vincere Roma. Oggi è più importante avere un progetto e un metodo condiviso piuttosto che immaginare marmellate tra vari partiti che sono semplicemente sommatorie.